salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè siamo di nuovo qui a parlare di Emanuela Orlandi questo perché innanzitutto per chi si fosse perso il video numero uno quindi dove riassumiamo tutta la vicenda per bene ve lo lascio qui e sotto in descrizione ma nell'altro video ho prevalentemente esposto la teoria internazionale che poi è stata chiusa archiviata e la teoria che riguardava appunto il rapimento di Emanuela della banda della Magliana per ricattare il Vaticano in questo video approfondiremo sia quella teoria con alcuni dettagli emersi ma approfondiremo anche la pista che vede la banda della Magliana rapire delle ragazzine per il Vaticano perché è giusto che anche con gli ultimi aggiornamenti dati da Pietro Orlandi da Laura Sgro negli ultimi due tre anni è giusto anche vagliare tutte le teorie per avere un quadro completo seppur pieno di dubbi della situazione da dove partiamo partiamo dal proprio dall'apertura per la prima volta dallo stato del Vaticano del caso di Emanuela Orlandi questo perché perché appunto è coinciso con la morte di Ratzinger ma prima di questo c'è un dettaglio che io non avevo considerato che ho provato anche a vedere online ma non ho trovato risposta quindi se secondo voi adesso io vi faccio questa domanda fatemelo sapere sotto nei commenti quando è stata rapita Emanuela Orlandi due giorni dopo si presentano a casa degli Orlandi due agenti dei servizi segreti e la domanda è secondo voi perché perché io non sono riuscita a darmi una risposta era un dettaglio che avevo un pochino tralasciato ma una ragazza di 16 anni scomparsa da due giorni purtroppo succede è un fenomeno comune e la polizia italiana era più propensa a pensare che in realtà Emanuela Orlandi si fosse allontanata per sua volontà quindi perché due giorni dopo sono andati i servizi segreti a casa Orlandi e poi hanno messo tutte le comunicazioni dopo che è arrivato l'americano perché l'americano è arrivato dopo l'arrivo dei servizi segreti a casa Orlandi perché spostare tutto nelle mani di quell'avvocato Gennaro Egidio che è stato assegnato sia alla famiglia Orlandi sia a Mirella Gregori questa è una cosa che non sono riuscita a cui non sono riuscita a darmi una risposta quindi fatemi sapere voi sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo ora fatta questa premessa di questo dettaglio che effettivamente non avevo analizzato perché non ci avevo proprio pensato passiamo al fatto che il 31 dicembre del 2022 muore Papa Ratzinger quando muore Papa Ratzinger la chiesa decide di cioè il Vaticano scusate decide di aprire il caso di Emanuela Orlandi c'è un collegamento tra la morte di Ratzinger e Emanuela Orlandi secondo Pietro Orlandi c'è c'è un collegamento Papa Ratzinger durante il pontificato di Papa Giovanni Paolo II quindi di Papa Voitila era una carica importante era quasi il braccio destro di Papa Voitila quindi Pietro Orlandi dice queste due cose sono collegate qui ci ricolleghiamo alla vicenda del Vatilix di cui abbiamo parlato anche l'altra volta chiaramente ci farò un video approfondito sul Vatilix però non è questa la sede di quello che è uscito il Vatilix di Emanuela Orlandi ne parliamo in questo video e poi farò un video a parte sul Vatilix in sostanza il Vatilix è uno scandalo che ha coinvolto una fuga di documenti del Vaticano che sono andati alla stampa italiana nel 2012 e nel 2015 dietro questa fuga di documenti ci sarebbe il signor Paolo Gabriele cioè l'ex maggiordomo proprio di Papa Ratzinger quindi Paolo Gabriele avrebbe preso questi documenti e mandati alla stampa italiana proprio perché lui era il maggiordomo di Papa Ratzinger e dice che per un atto di fede voleva che alcune cose venissero fuori è stato appunto chiaramente condannato ad oggi purtroppo è morto quindi la sua testimonianza muore con lui ma nel 2000 nel 2001 credo rilasciò un'intervista esclusiva alla 7 che non posso farvi vedere perché è coperta da copyright quindi vi leggerò alcuni passi di quello che ha detto importanti e cioè la scomparsa di Emanuela Orlandi è la cosa che più mi fa pensare forse non è stato fatto tutto quello che si doveva o forse si andavano a toccare cose troppo scottanti troppo delicate ancora peggio di quello che vorrebbe dire un'uscita di documenti il nostro è un paese riferendosi alla città del Vaticano quindi allo stato del Vaticano in cui si può entrare fare una strage e andarsene indisturbati e dopo 24 ore nessuno può mettere bocca su quanto successo oppure sparisce una ragazzina e dopo 30 anni questa intervista appunto vi dicevo è di 10 anni fa non si riesce a trovare una persona che dica qualcosa su come può essere andata quindi colui che ha trafugato i documenti del Vaticano e li ha mandati alla stampa ha fatto due riferimenti importanti uno a quello di Emanuela Orlandi dicendo che cioè dando ad intendere che qualcuno sa e non vuole parlare qual è la strage a cui si riferisce Paolo Gabriele si tratta del caso Esterman un triplice omicidio commesso il 4 maggio del 98 nella città del Vaticano che causò la morte del comandante della guardia svizzera pontificia Alois Esterman e sua moglie Gladys Romero uccisi dal vice caporale Cedric Tourney che poi si suicidò quindi è stato un omicidio suicidio però che cosa succede? Succede che queste indagini sono state fatte dal Vaticano che però queste indagini presenterebbero delle incongruenze perché dice appunto che questo Cedric insoddisfatto del fatto che non riuscisse a salire di grado per colpa di quella che poi è stata vista come la vittima e di sua moglie e allora gli ha preso un raptus ha sparato al suo capitano questo Esterman e poi ha sparato a sua moglie e si è suicidato ma dalla scena del crimine si vede che in realtà lui si sarebbe suicidato questo Cedric puntandosi la pistola dietro la nuca il che già è strano e da come è stato ritrovato il corpo sembrerebbe che lui in realtà avesse la testa appoggiata in avanti quindi come se qualcuno gli stesse in realtà puntando una pistola inoltre sulla scena è stata ritrovata la lettera di Cedric la lettera da suicida ma questa lettera non solo aveva il nome della madre scritto male la calligrafia non sembrava essere quella di Cedric perché è stata fatta analizzare e le date insomma del suo lavoro presso il Vaticano presso la gendarmeria vaticana erano sbagliate tutte queste incongruenze hanno fatto pensare alla famiglia di Cedric che in realtà questo sia un triplice omicidio e non un omicidio suicidio mascherato poi dal Vaticano probabilmente perché i tre avevano pensato di fare una fuga di documenti cioè di mandare eventualmente dei documenti magari quelli di Emanuele Orlandi a qualcuno quindi sono stati beccati e sono stati fatti fuori chiaramente non ci sono conferme per questo però Paolo Gabriele ex maggiordomo di Ratzinger ha fatto questa questa accusa detto questo è un caso che dopo 24 ore dalla sua esecuzione già non se ne poteva più parlare quindi tu puoi entrare fare una strage andartene senza che nessuno metta bocca su questo quindi perché vi racconto queste cose perché Paolo Gabriele ha diciamo collegato questa strage a quella di Emanuele Orlandi cioè tutto quello che deve morire dentro il Vaticano rimane lì e non esce fuori Paolo Gabriele ha detto anche che sulla scrivania personalmente lui ha visto che sulla scrivania di padre georg ha visto il dossier di Emanuele Orlandi era su quella scrivania detto mi dispiace questo l'ha detto a Pietro Orlandi il fratello di Emanuele ha detto mi dispiace di non averlo potuto fotocopiare ma era spillato era sigillato quindi non ho potuto prenderlo lo stesso padre georg qualche anno fa disse a Laura Sgro l'avvocatessa di Pietro Orlandi le disse sì certo che c'è un fascicolo su Emanuele Orlandi è nella segreteria di stato adesso dopo la morte di Ratzinger nel suo libro padre georg si rimangia tutto e dice no assolutamente se il fascicolo di Emanuele Orlandi non è ancora spuntato fuori è perché non esiste quindi si è rimangiato tutto infatti l'avvocatessa Sgro durante la trasmissione atlantide credo si chiami dei la 7 ha detto un po di nomi delle persone che voleva ascoltare tra cui c'era anche padre georg per cercare di capire come mai dopo anni si sia rimangiato tutto molte richieste sono state fatte anche dalla procura ma con rogatori internazionali perché vi ripeto lo stato del vaticano è uno stato a parte al di fuori dell'italia quindi hanno chiesto tre rogatori internazionali il vaticano si è sempre rifiutato ha sempre fatto muro non ha mai aiutato la famiglia il primo nome che menziona laura Sgro nella sua lista di persone che vuole sentire è quello di don vergari allora don vergari vediamo chi è perché don vergari è un soggetto un po particolare don vergari è stato il primo l'unico anzi scusate prelato indagato dalla procura italiana per concorso nel ravimento di Emanuele Orlandi per via dei suoi contatti con Enrico De Petis con Renatino l'ex capo della banda della magliana infatti quando Renatino viene ucciso nel 1990 in una sparatoria sarà proprio don vergari a fare richiesta al cardinale poletti per far seppellire Enrico De Petis detto Renatino della banda della magliana nella chiesa di santa pollinare vi ricordate infatti la chiamata di chi l'ha visto che abbiamo visto anche nel video scorso in cui a un certo punto arriva una chiamata al programma e dice se volete vedere chi ha fatto favori al vaticano andate a vedere chi è seppellito nella basilica di santa pollinare si è visto che era seppellito Enrico De Petis ex capo della banda della magliana e quindi si apre la pista della banda della magliana per ricattare il vaticano che abbiamo visto l'altra volta ecco è stato don vergari a far pressioni a chiedere la sepoltura di Enrico De Petis dentro santa pollinare quindi dopo questa chiamata si apre la pista della banda della magliana cioè Emanuela Orlandi viene rapita dalla banda della magliana e qui si diramano le due teorie quella che vi ho detto l'altra volta cioè Emanuela Orlandi rapita per ricattare il vaticano che aveva speso i soldi della mafia non glielo aveva ridati e l'altra pista cioè la banda della magliana rapisce le ragazze per conto del vaticano perché il vaticano è oggetto di orge e festini quindi la pista della pedofilia all'interno del vaticano sembra essere confermata da diverse cose sembra essere confermata dall'amica di Emanuela Orlandi che aveva detto che Emanuela era stata avvicinata da un altro prelato che l'aveva infastidita questa stessa testimonianza è confermata da una guardia da un gendarme del vaticano che disse a Pietro Orlandi ho chiesto alle persone che fanno queste cose se loro avevano Emanuela e mi hanno risposto di no cioè che significa quelli che fanno queste cose quelli che hanno in mano un giro di ragazzine quindi la guardia non è stata chiaramente non ha fatto nomi ma ha detto a Pietro Orlandi Pietro Orlandi lo ha raccontato ha detto mi disse vado a chiedere a chi fa queste cose è andato a chiedere insomma chi fa queste cose e lui ha risposto sono andato a chiedere a chi a coloro che fanno queste cose qui e mi hanno detto che non hanno Emanuela quindi anche questa testimonianza sembrerebbe confermare una pista di pedofilia all'interno del vaticano ora voi sapete come vi ho detto nell'altro video io propendo più verso la teoria del fatto che Emanuela Orlandi sia stata rapita dalla banda della Magliana per ricattare il vaticano e farsi ridare i soldi però chiaramente non abbiamo una risposta certa quindi neanche questa teoria è da escludere adesso prendiamo in esame la testimonianza che Antonio Mancini che era un ex della banda della Magliana che si è fatto intervistare a chi l'ha visto ha raccontato cioè lui che cosa dice lui sostiene questa teoria cioè dice i testaccini perché la banda della Magliana era divisa in sottogruppi che agivano anche separatamente con interessi diversi quindi non era proprio la mafia che conosciamo tutta unita con un capo solo i testaccini che erano quelli di Enrico De Pedis hanno rapito Emanuela Orlandi per farsi ridare i soldi del vaticano basti ricollegare l'evento di rosone del banco ambrosiano e di Danilo Abbrucciati detto il camaleonte che cosa intende Mancini Mancini sostiene che nell'82 proprio per i soldi che il banco ambrosiano aveva preso dalla mafia e poi aveva riciclato insieme al banco del vaticano questo Danilo Abbrucciati detto il camaleonte aveva il compito di uccidere il vicepresidente del banco ambrosiano questo dottor rosone per mandare un messaggio al banco ambrosiano quindi lui nell'82 un anno prima che fu rapita Emanuela a marzo 82 prova ad uccidere rosone non ce la fa perché la pistola si inceppa quindi lo riesce a gambizzare ma non riesce ad ucciderlo è una guardia di rosone uccide er camaleonte quindi lui a questo appunto questo membro della banda della magliana muore a nel marzo 82 nel giugno 82 la banda della magliana detta di Mancini rintraccia e uccide calvi l'abbiamo visto nel video scorso il presidente del banco del banco ambrosiano che era stato trovato morto al ponte di londra con i soldi in tasca questo per lanciare un messaggio al vaticano dicendo sappiamo che i vostri soldi ce li avete voi questo è quello che è successo al banco ambrosiano se non pagate succederà anche a voi quindi lanciano un messaggio e questo sempre nell'82 a giugno e nell'83 viene rapita Emanuela Orlandi quindi Mancini dice era un modo per ricattare il vaticano per mettergli ancora più pressione inoltre Mancini dice per quanto noi fossimo criminali noi per una questione di moralità non avremmo mai rapito ragazzine per darle in basso a dei vecchi è quello che dice è una cosa troppo morale da fare anche per la banda della magliana però ci sono da tenere in considerazione alcune cose di chi sostiene questa teoria cioè il fatto appunto che la banda della magliana prendesse le ragazzine quindi anche Mirella Gregori per il conto del vaticano e cioè che come vi dicevo prima la banda della magliana non agiva unitariamente cioè era divisa in diversi gruppi c'erano i testaccini sotto enrico de pedis e gli abbatini sotto abbati insomma erano vari gruppi ecco quindi erano dei gruppi con diversi interessi il che significa che magari il fatto che enrico de pedis e don vergari quindi i testaccini della banda della magliana e lo stato del vaticano fossero collegati molto bene potesse effettivamente portare questo magari ad uno scambio di favori cioè nel senso enrico de pedis dice al vaticano mi devi ridare i soldi e il vaticano gli dice fammi questi favori cioè procurami queste ragazzine per questi giri e cerchiamo di velocizzare un po la situazione quindi magari enrico de pedis e la banda della magliana hanno rapito Mirella Gregori e Emanuela Orlandi per dire ecco ti consegniamo queste due ragazze voi però accelerate un attimo i conti e ridateci i soldi quindi potrebbe essere stato anche quello ora qui ci ricolleghiamo un altro audio di cui abbiamo parlato a sostegno diciamo di questa teoria di cui abbiamo parlato anche nello scorso video in maniera molto breve ma oggi lo vediamo per bene e mi riferisco all'audio di un altro ex membro della banda della magliana che ha rilasciato la trasmissione di ambrosini in cui in sostanza questa confessione cosa dice de pedis è sepolto lì quindi nella nistanta pollinare per grazia ricevuta ma non per quello che dice quella pazza della minardi che era la sua ex ragazza e continua dicendo ma lei sa chi era casaroli quello veniva al riformatorio e ci portava le sigarette era pure un pezzo di audio incomprensibile il papa voitila chi gli ha salvato le chiappe è casaroli casaroli non è intervenuto direttamente ha fatto intervenire gli ex cappellali di regina cieli che portavano whisky lettere tutto quello che serviva droga all'interno del carcere quando è servito qualcosa a chi si sono rivolti voitila pure insieme se le portava a letto se le portava non so dove se le portava ma all'interno del vaticano non hanno fatto altro che chiamare de pedis e gli hanno detto sta succedendo questo ci puoi dare una mano punto il resto sono tutte cazzate quindi da questo audio si capisce preso chiaramente per buono che anche lo stesso papa voitila fosse immischiato in questo giro di pedofilia in questo giro di orge e di festini e che tutto partisse dal collegamento di enrico de pedis con don vergari il rettore della basilica di santa pollinare inoltre dalle intercettazioni telefoniche di don vergari con l'ex moglie di de pedis si sente don vergari dire che lui ha conosciuto renatino quindi enrico de pedis nell'83 in prigione e che ci è rimasto amico questa è sempre stata la giustificazione di don vergari quando gli hanno chiesto perché enrico de pedis sta là dentro lui gli ha detto perché enrico de pedis era un mio amico non per interessi ma perché ci siamo conosciuti quando lui era stato arrestato io facevo il cappellano lì andavo a fare le messe nel carcere e ci ho fatto amicizia mi stava simpatico ci siamo visti anche dopo quando è uscito ma non per interessi economici ma in questa chiamata si sente proprio don vergari dire all'ex moglie di de pedis ho conosciuto tuo marito nell'83 perché mi ricordo che portavo fuori dal carcere i messaggi che lui mi mandava quindi da questa confessione don vergari praticamente ha detto che renatino gli passava i messaggi dei suoi affari loschi dalla prigione e don vergari un prelato faceva da passaparola con il gruppo della mafia ed è quello che effettivamente sembra sostenere l'ex membro della banda della magliana nell'audio perché lui dice proprio che i cappellani andavano lì e portavano whisky lettere tutto quello che serviva droga all'interno del carcere a quelli della banda della magliana quindi effettivamente una parte di questo audio sembra essere confermato dalle intercettazioni fatte a don vergari che ammette la stessa cosa dice sì io facevo da messaggero per de pedis fuori dal carcere addirittura don vergari era così vicino a de pedis che scrisse anche ad andreotti che allora era presidente del consiglio gli scrisse don vergari di se poteva togliere diciamo un controllo di polizia che avevano fatto al fratello di de pedis e inoltre manda una stessa lettera ad andreotti dicendo come si era conosciuto con de pedis che comunque lui si erano conosciuti in carcere che lui era simpatico eccetera eccetera quindi lo stesso don vergari ha scritto direttamente ad andreotti che all'epoca era presidente del consiglio per dirgli per confermare la sua amicizia stretta con renatino de pedis il capo della banda della magliana e ora ci ricolleghiamo un'altra testimonianza uscita è uscita la testimonianza di salvatore sarnataro che era il padre di marco sarnataro marco sarnataro è un ragazzo che è morto e che faceva parte della banda della magliana questo salvatore che appunto il padre di marco sostiene che suo figlio sia il rapitore di manuela orlandi che lui insieme a due suoi colleghi della banda della magliana diciamo altri due scagnozzi abbiano seguito e rapito emanuela orlandi per conto di enrico de pedis perché suo figlio faceva parte dei testaccini questa cosa sembra essere confermata anche da un amico di emanuela orlandi che un giorno uscito con emanuela orlandi e un altro gruppetto di persone ha visto due ragazzi che seguivano con gli occhi che la guardavano emanuela passare tanto che lui stesso ha fatto la battuta dicendo mi sa che questi ti hanno adocchiato o qualcosa del genere quindi che è successo che quando poi lui è andato dalla polizia a raccontare questa cosa anni e anni fa gli hanno fatto fare un identikit di questi due che guardavano emanuela nel 2008 gli hanno fatto vedere la foto di questo marco sarnataro quel figlio di questo salvatore e lui questo amico di emanuela orlandi ha riconosciuto marco ha detto sì sì uno dei due era lui quindi secondo il padre di questo marco questo salvatore suo figlio marco poi altri due soggetti chiamati gigetto e ciletto che erano molto vicini a depedis hanno rapito emanuela orlandi per conto di depedis e che questo suo figlio marco in cambio di quanto successo la banda e la magliana gli ha fatto trovare una moto nuova a casa una motocross o qualcosa di genere come pagamento ecco e questo salvatore lo sa perché suo figlio gliel'ha raccontato lui dice mio figlio marco mi ha raccontato tutto hanno fatto salire emanuela sulla bmw offrendole un lavoro per la avon i volantini li avevano presi dalla cognata di ciletto che faceva la parrucchiera e vendeva prodotti avon l'hanno attirata con questo l'hanno portata all'aghetto dell'eur l'hanno consegnata a sergio virtù che era l'autista di depedis questo sergio chiaramente è stato sentito lui ha negato tutto ma in un'intercettazione telefonica si sente lui raccontare alla sua ragazza questo sergio virtù l'autista dire io quello che ho fatto l'ho fatto solo per i soldi purtroppo non si ha più di questo quindi nel 2015 queste indagini vengono archiviate ma tutte le testimonianze sembrano portare alla banda della magliana Enrico Depedis cioè io penso che ormai sia assodato che Manuela Orlandi sia stata rapita dalla banda della magliana il perché chiaramente si divide in due tra chi pensa che servisse per ricattare il Vaticano e chi pensa che invece il Vaticano la volesse per i suoi giri di pedofilia all'interno un'altra cosa che dice appunto che sostiene diciamo l'ultima cosa che sostiene che appunto ci sia un giro di pedofilia c'era e c'è ancora un giro di pedofilia all'interno del Vaticano è che questo Salvatore Sarnataro il padre di Marco dice un'ultima cosa dice sì quel Marcinkus che era il capo dello IOR cioè il capo della banca del Vaticano molto vicino a Papa Giovanni Paolo II lui dice sì a lui piacevano le ragazzine era risaputo ma non finisce qui perché a Marcinkus a un certo punto vengono raccomandati tre seminaristi polacchi Don Vergari che era sotto intercettazione si sente al telefono con uno di questi seminaristi che poi verrà raccomandato proprio a Marcinkus questa conversazione è terrificante si sente dall'altro lato questo seminarista che non è italiano però parla in italiano con Don Vergari e gli sta raccontando che si sta toccando scusate purtroppo YouTube sapete com'è che si sta toccando e fa questo sexting telefonico con Don Vergari e ci sono tutte le intercettazioni che chiaramente sono coperte da copyright quindi vi leggerò sono a sigillo tu dove sei? chiede Don Vergari e il seminarista risponde sono nella mia casa e gioco riferendosi che stesse giocando insomma con le sue parti intime e Don Vergari per nulla intimorito risponde giochi vuol dire che sei in forma e il seminarista chiede posso dormire con voi nello stesso letto? chiede a Don Vergari ti ricordi dell'orto banane, zucchine, melanzane tutti ortaggi lunghi lunghi io gioco voi giocate sempre riferendosi a Don Vergari e Don Vergari in questa chiamata dove questo seminarista continua a parlare di orto di banane di zucchine chiaramente tutto facendo riferimento a sfondo sessuale diciamo una cosa in codice palesemente Don Vergari non è che fa cose del tipo oddio che stai facendo vatti a confessare che comunque la chiesa è contro questa cosa soprattutto a sfondo omosessuale ma sta un po' al gioco si tiene sempre un po' distante ma sta un po' al gioco perché dice sì la prossima volta che ci vediamo giochiamo insieme risponde sempre così sì sì la prossima volta che vengo giochiamo insieme giochiamo insieme lui fa allora sei sicuro che giochiamo insieme? sì sì giochiamo insieme e questo seminarista fu poi raccomandato a Marcinkus quindi rifacendo un recap di quello che sono state le aggiunte di questo video e che insomma per riavere un quadro della situazione la banda della Magliana è ovvio che sapesse che dentro il Vaticano giravano delle orge perché come lo sappiamo noi lo sapevano anche loro ce l'hanno detto tanti ex membri della banda della Magliana che hanno confermato questa cosa e sono state confermate anche dalle intercettazioni telefoniche di Don Vergari la banda della Magliana ha rapito Emanuela Orlandi per conto di Enrico De Pedis questo lo sappiamo dalle testimonianze di Salvatore e dalla testimonianza di Antonio Mancini insomma dalla testimonianza della Minardi quindi sappiamo che la banda della Magliana ha rapito Emanuela Orlandi e poi da qui si divaricano le due teorie chi pensa che sia per ricattare il Vaticano per i soldi come dice lo stesso Mancini oppure per una questione di orge come sostiene l'altra teoria De Pedis aveva dei contatti stretti con il Vaticano questo perché appunto con tramite Don Vergari con cui è stato insomma che ha poi favorito il suo la sua sepoltura alla Basilica di Santa Pollinare almeno dal lato dei seminaristi si vede che c'è un giro di sesso all'interno del Vaticano quindi di prelati che fanno sesso con i seminaristi tutte queste informazioni possono collegare la banda della Magliana con il Vaticano e aprono quindi queste due piste nella telefonata dell'ex membro della banda della Magliana che dice anche quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza il segretario di Stato ha deciso di intervenire riferendosi appunto a queste ragazzine che venivano portate nelle mura del Vaticano l'ex segretario di Stato all'epoca era il cardinale Bertone nominato anche nell'intervista di La Sette dall'avvocatessa Asgro dicendo che lui vorrebbe sentirlo ma il cardinale Bertone si rifiuta inoltre il segretario di Stato è una delle cariche più importanti del Vaticano è per questo che la Asgro vuole sentirlo e vuole sentirlo insieme al cardinale Sandri che era presente anche lui in segreteria di Stato la sera che Emanuela Orlandi è scomparsa e la segreteria di Stato perché ha un ruolo fondamentale in tutto questo perché padre Georg la prima volta disse a Pietro Orlandi gli disse certo che c'è un dossier su Emanuela si trova in segreteria di Stato quindi tutti questi collegamenti porterebbero alla segreteria di Stato che però non vuole parlare insomma quindi questi sono altri dettagli delle due piste che escludono la pista internazionale quindi quella ormai è stata archiviata ed è chiaro confermano che la banda della Magliana sia responsabile del rapimento di Emanuela Orlandi ma divarica in due motivi il ricatto dei soldi del Vaticano della mafia o il rapimento di Emanuela Orlandi Mirella Grigori e chissà quante altre per portarle nelle mura del Vaticano fatemi sapere voi che cosa ne pensate noi ci vediamo giovedì quindi vi auguro un buon martedì ciao ciao